I due giorni che hanno fatto impazzire di gioia l'Italia hanno avuto protagonisti Marta Bassino e Luca De Lipprandini. La 24enne piemontese Marta, non il gigante di cui la si sarebbe creduta protagonista, ma nel parallelo, gara giovane da regolamento al quale mettere mano, vincendo un oro ex equo con l'Austria Kalinsberger. È incredibile, è veramente bello, sono contenta, soddisfatta, è stata veramente una lotta, bisogna combattere sempre, bisogna volerlo e se lo vuoi veramente puoi farcela. A sorpresa il trentenne di Kles, Luca, mai salito sul podio in tutta la sua carriera, vince una medaglia d'argento in gigante sulla bella pista Labirinti, dove si perdono in molti, ma non il trentino. È quasi incredibile, sembra stato un tabù, era diventato quasi un peso e ultimamente adesso avevo proprio detto, non mi interessa proprio, se non deve venire non viene, però oggi io non so cosa è.